Qua amici vi mostro gli ingredienti per i nostri sedani alla pratese, piatto tipico della cucina toscana e soprattutto della zona di prato. Abbiamo bisogno per tre persone di 350 grammi di sedano, vi lascio nel link in descrizione come procedere con la pulizia. Una volta puliti mettetele in un cestello con acqua dentro una pentola a pressione e cuocete per 15 minuti, altrimenti se non avete la pentola a pressione potete bollirli in una pentola con acqua e sale grosso al momento del bollore metterli dentro per una ventina 25 minuti circa, questo è il risultato. Una volta che avete cotto i sedani vi occorrerà almeno 300 grammi di macinato di manzo, io al quale ho aggiunto del prezzemolo, del parmigiano e un pizzico di sale. Poi vi occorrerà sicuramente un po' di pangrattato quanto basta e dei bruscoli di pane rafferino se li avete in casa da consumare, io ce li avevo in dispensa. Poi abbiamo bisogno di farina e ovviamente non può mancare l'uovo sbattuto con il latte quanto basta, almeno un uovo, per impanare i nostri sedani. Da ultimo in ultimo abbiamo bisogno di questo, del ragù, perché il sedano alla pratese si compone di tre cotture. La prima cottura verrà fatta come abbiamo visto bollita, poi fritta e poi ripassata in umido con il ragù. Vi lascio nel link descrizione la ricetta del mio famosissimo ragù. Per prima cosa aggiungo al composto di carne anche il pane e il pangrattato e inizio a lavorare il tutto così. In questa fase mi ero dimenticata di dirvi che se mettete il pane come ho fatto io aggiungete anche un goccio di latte quanto basta e un uovo intero. Le ricette poi si personalizzano in base all'ingredienti anche che abbiamo in casa. Ecco qua. Creiamo quest'impasto omogeneo lavorandolo un po' con le mani o con un mestolo di legno e andremo poi a riempire i nostri sedani. Ecco come vedete prendo un po' di impasto, nostro impasto diciamo saporito e lo vado a stendere sul sedano così e lo accoppio così con un altro sedano sopra. Ecco questo è il risultato come vedete. Poi ci sono molte varianti di questa ricetta. Questa è una delle tante. Quindi procediamo così per tutti i sedani che abbiamo e poi ci vediamo al procedimento successivo. Ecco qua questo è il risultato. Se poi vi è rimasto come me qualche rimasuglio di carne possiamo utilizzarlo quando li andremo a cuocere in umido con il ragù. Non si butta via nulla in cucina a creare delle piccole polpette. Ci troviamo adesso a impanare i nostri sedani. Quindi prendiamo il sedano. Abbiamo preparato la farina quindi andiamo a infarinare così per bene tenendo l'unito. Andiamo a passare nell'uovo ed infine nel pangrattato. Ecco i sedani impanati pronti per andare nella seconda cottura, la frittura. Vi lascio nel link in descrizione come si frigge correttamente e qual è l'olio ideale per friggere quello di arachidi o prediligo. Andiamo a friggere i nostri sedani. Ecco sentite come sfricola? Facciamo una prova, vediamo se siamo pronti. Sì, direi di sì. Quindi possiamo andare a immergere i nostri sedani. Eccoli. Non li cuociamo del tutto perché l'ultima cottura sarà ovviamente quella in umido nel faboloso ragù. Quindi una volta che ho tolto i sedani li andrò a asciugare bene con un panno assorbente e poi termineranno gli ultimi dieci minuti di cottura nel ragù. Ecco il risultato. I sedani sono belli fritti, croccanti. Adesso li vado a mettere. Gli ultimi dieci minuti ho messo una padella capiente con del ragù. Quindi vado ad immergerli perché devono essere serviti proprio immersi in questa salsa favolosa. Adesso non ci resta che sentire il giudizio di mio marito che è veramente un pratese di O.C.G. Sentiamo cosa dice del mio sedano perché io sono pistoiese, eh. 18 chilometri da prato. Sentiamo un po' com'è questo sedano. Mi sembra buono, non c'è più. Allora, il profumo c'è. Meno male. Il sapore è anche forse un pochino più di sale. Probabilmente sono io abituato a mangiare salato. Comunque il sapore c'è tutto. Complimenti. Bene amici, non vi resta che provare anche a voi. Per oggi è tutto. Alla prossima. Ciao. Ciao amici.